Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Oggi volevo parlarvi della mia esperienza con il DJI Mic 2 nuovo microfono, diciamo nuovo, abbastanza nuovo del DJI mi sono reso conto di una cosa che non è menzionata da nessuna parte quindi è meglio aprire gli occhi, meglio saperla prima questa cosa e magari quando acquistate questo prodotto sapete dove dovete andare a guardare ma prima di questo volevo dirvi grazie per guardare il mio video e molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like, un like preventivo perché faccio questi video sono gratis, magari vi possono aiutare quindi diciamo in un certo senso vado premiato, vado premiato e premiatevi con un like, magari se vi interessa iscrivete anche al canale non sono stato pagato dalla DJI per fare questa recensione di questo microfono anzi, se avessero dovuto o voluto contattarmi non mi contatteranno nemmeno più cominciamo dall'inizio, c'è un'amica che mi ha contattato chiedendomi delle informazioni per aprire un canale nuovo YouTube dove tratta diciamo in un mondo molto bello quelle che sono le malattie mentali e in inglese comunque vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata per quelli di voi che magari masticano l'inglese comunque c'è anche la traduzione in italiano, automatica da YouTube e mi chiede delle attrezzature per fare queste queste riprese allora siccome lei è nuova in questo settore non ha mai preso in mano una fotocamera una telecamera, le ho consigliato quindi quello che per me è un prodotto che va bene per chissà per cominciare, magari vuole investire dei soldi e li vuole investire bene vi ripeto non sono stato pagato per questo perché mi piace la tecnologia, mi piace questo mestiere lo faccio da anni, quindi secondo le mie conoscenze e secondo la mia coscienza le ho consigliato l'Osmo Pocket 3 V-Log Combo che praticamente è formato un pacchetto con il DJI Pocket 3 più due microfoni esterni le ha permesso di fare delle bellissime riprese e di pubblicare in un modo quasi istantaneo i suoi primi video su YouTube vi ricordo ancora, vi lascio il link in descrizione se volete andare a dare un'occhiata anche a vedere la qualità, avendo provato questi microfoni decido di acquistarli e decido di acquistarne uno solo, quindi decido di acquistare la confezione singola con un solo microfono e acquisto il microfono, quello là, nero mi arriva una mattina mentre sto per andare al lavoro lo prendo al volo dal corriere, lo metto nello zaino e lo porto con me e decido di fare un primo video giro questo video in combinazione con la Insta360 One Inch più la Sony A7S torno a casa e lo inizio a montare, nel montare mi rendo conto che a un certo punto c'è un pezzo di audio che è distorto, dico ma come funziona sta cosa, cioè io ho quello di 34 bit questo microfono da considerare che il microfono in sé non ha tanti bottoni, ha tre bottoni uno per l'accensione, che poi serve anche per attivare il filtro antirumore e antivento un altro per fare il pairing con il bluetooth quindi per attivare il bluetooth e un altro per registrare, quindi tre bottoni in tutto vado a vedere l'audio, controllo l'audio mi rendo conto che anziché 34 bit anziché 32 bit scusami è 24 bit e dico ma com'è sto fatto? vabbè forse non lo so vedo, diciamo, devo vedere nelle istruzioni e devo controllare come si fa a cambiare questo audio da questo microfono, questo settings da 24 a 32 bit guardo il manuale e mi rendo conto che non si può cambiare e di dove ho messo fatto? cioè vabbè ha la possibilità di registrare a 24 bit ma io l'ho comprato perché volevo registrare a 32 bit quindi come faccio? niente, mi metto su internet e mi metto a vedere un po' di forum, di cose e praticamente anche altre persone hanno avuto questo fatto qua in effetti, che succede? comprando la versione singola il settaggio di registrazione di fabbrica è settato sui 24 bit e non sui 32 e come si fa a cambiare questo settaggio? bene bene, udite udite, non si può cambiare ossia si può cambiare solo se abbiamo il ricevitore che viene fornito nella confezione combo dove in pratica andiamo a comprare il kit con i due microfoni quindi due trasmettitori e un ricevitore che può essere applicato anche alla macchina e che grazie al suo display di cui è dotato possiamo andare nei settaggi e possiamo andare a cambiare il settaggio dei microfoni io ho chiamato la mia amica, mi sono fatto prestare i suoi due microfoni, il suo kit e con il suo ricevitore ho cambiato il settaggio spero che io abbia preso una partita di microfoni che erano usciti di fabbrica con quel settaggio spero che i nuovi, che i messi sul mercato, che si siano accorti di questo errore e l'abbiano corretto e che comunque magari con un aggiornamento del firmware perché si può fare anche l'aggiornamento del firmware del microfono si può mettere un menu e comandare questo menu attraverso il computer attraverso il cellulare, un'app per il cellulare insomma far sì che noi utenti possiamo andare a cambiare questo settaggio del microfono quindi questa era la cosa che vi volevo dire se avete intenzione di acquistare il microfono singolo e non avete il ricevitore controllate che il vostro audio sia a 32 bit anziché a 24 bit come fare? registrate, lo mettete nel computer e vedete il file, la risoluzione audio quant'è cioè la risoluzione dei bit diciamo quant'è comunque secondo me il microfono funziona bene, va bene il prezzo è anche un prezzo secondo me giusto a parte questo piccolo inghippo insomma non ho nulla da dire contro questo microfono anzi mi trovo benissimo se volete acquistare comunque questo microfono vi lascio il link in descrizione il link è un link Amazon a voi non costa nulla a me verrà corrisposta una piccola commissione che Dio volendo mi aiuterà a far crescere il canale e a portarvi altre esperienze ci vediamo nel prossimo video nel frattempo pace